Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Layer Sofia 2016 e Layer Sofia 2 2019, tra parentesi. Questo esce il 15 di giugno ed è una sorta di remake in Unreal Engine 5, quindi con una grafica decisamente migliorata con il retracing, che unisce Layer Sofia 1, 2, relativi DLC, più una storia nuova. Quindi, insomma, non serve più comprare i giochi vecchi, ma si può giocare direttamente questo. Sono state aggiunte delle meccaniche nuove, tra cui l'uso della lanterna, insomma, ma lo proviamo rapidamente. Ci sono i capitoli, io ricordo di aver finito il primo in 4 ore circa, ma è un gioco molto molto particolare, devo dire, perché siamo all'interno di questa casa e già la grafica ai tempi era bellissima e c'era questa cosa di dipinti all'interno di questa casa con cui si interagiva, la casa di questo pittore, credo. Non so dire il prezzo, però, allora, ipotizzo potrebbe costare un 29-39, perché un utente sul forum di Steam aveva ipotizzato 60 euro e lo sviluppatore gli ha risposto dicendo no, no, per carità, molto meno. E quindi posso ipotizzare un 39, credo, più probabile di un 29. E niente, è un gioco che portai all'inizio, anni fa, meno 4-5 anni fa, credo, e vediamo un attimino com'è. Ho deciso di farlo così all'inizio, alla cerca, insieme a voi, in modo da vederlo. Lo vedrete probabilmente il giorno dopo l'uscita, quando combacerà la data dei video canonici con la fine dell'embargo, che è per il 15 di giugno, quindi non posso mostrare nulla prima. Vi vedremo, un periodo un po' tra amnesia e questo, insomma, in cui la fanno da padrone gli horror, diciamo. Con anche l'annuncio e la relativa demo di Alone in the Dark, che aspetto veramente con impazienza, perché io sono cresciuto con Alone in the Dark. Comunque, adesso qua, di solito ci sono sempre dipinti dietro. Comunque, vi dico la verità, la storia l'ho trovata criptica, la prima non vi dico nulla, però, insomma, mi ha un pochino spiazzato. Ora ci mostra dieci anni prima. Storia della scrittrice, capitolo 1, vediamolo. Intanto ringrazio anche lo sviluppatore, perché è stata un'opportunità inattesa, inaspettata. Vediamo un attimino. Lo sto giocando a dettaglio massimo, ultra. Ultra, alto, non c'è di niente. Mi ha fatto pensare alla tua poesia. Congratulazioni. Possiamo ruotare o mettere via. Ok. Never call him by a real name. Non chiamatelo mai per il suo nome. Vediamo cos'è questo. Si sente comunque una bella pesantezza nel movimento e si tira la porta, ok, come i classici giochi. Beh, ho preso una direzione a caso, quindi vediamo un attimino cosa c'è. C'è un generatore con cui non posso interagire. Sono al corrente della presenza dei ratti, ma non c'è nulla che si possa fare. Vivono su quest'isola da che se ne ha memoria. E nel nostro migliore interesse, lasciarli in pace. Va bene. Sappiamo questa cosa, non c'è altro con cui possiamo interagire, ma sappiamo che c'è un generatore che ci produce corrente. Ovviamente, come vi dicevo, non è la copia sputata del vecchio gioco, perché sono state introdotte alcune meccaniche nuove. Una grafica nuova, la Unreal Engine 5. Inoltre, storie nuove. Ovviamente, quello che si è visto nel primo e nel secondo relativi aggiunte, insomma, più una storia aggiuntiva. Quindi, a chi chiede, è Layers of Fiat 3? No. È un mix insieme che vale la pena, comunque, anche quanto ha detto lo sviluppatore, di giocare. Aspettabile? Interagibile. Congratulazioni un'altra volta per aver vinto la competizione. Ci permetta di ribadire quanto il suo contributo ci abbia lasciato i suoi paesi e siamo estremamente lieti di poterla ospitare presso il nostro eremo. Faccia come se fosse a casa sua. L'intero faro è a sua disposizione. Le provviste verranno fornite una volta alla settimana via nave. Se dovesse occorrerle qualcosa, è presente un telefono. Le auguriamo un soggiorno proficuo e stimolante la direzione. Perfetto. Allora, intanto, qua abbiamo il telefono. Bellino, mi piace perché... Vabbè, intanto iniziamo a vedere le porte qua. Magari ci porta anche all'esterno. Questa è chiusa, classico. Questa è aperta ed è una sorta di cucina. C'è anche un foglio. Questo è da giocare e lo dicono anche gli sviluppatori nelle schermate iniziali di aver giocato con le cuffie. Con molta calma, insomma, goduto con calma. Competizione di scrittura. L'agenzia invita tutti gli scrittori interessati a inviare i loro componimenti sulla vita e le opere di una delle figure più misteriose e tragiche della storia dell'arte moderna. La finestra temporale per l'invio del materiale sarà aperta fino... è tutto il leggibile qua. L'autore vincerà l'opportunità di scrivere un libro su uno dei soggetti del nostro fare. presso il quale potrà alloggiare appositamente per questo scopo. Quindi noi abbiamo vinto questo premio e siamo qui. Potrebbe essere una storia aggiuntiva perché non mi pare ricordare che iniziasse così. Però magari qualcuno di voi sa dirlo. Io non me lo ricordo più onestamente. L'ho finito ma non... L'intero fa a tua disposizione un paio di balle, è vero? Perché è chiuso. È tutto chiuso. Rispondo. Mi è giunta voce che ha raggiunto il faro. È tutto di suo gradimento? È stato rapido, sì, sono qui. Ci sono le porte chiuse, ma va bene. Mi fa molto piacere sentirlo. Ora sta scrivendo. Deve capire, signora. Imperativo che inizi la sua opera il prima possibile. Colgo un'altra occasione per ricordarle che ha firmato un contratto che è cronologicamente ben scandito. Le suggerisco di rispettarlo. Arrivederci. Bene. Illeggibile perché non si sente. Era decisamente troppo sopra per una conversazione del genere. Questo è il bagno. Non è proprio messo benissimo a sto bagno, calcolando che perde una tubatura a vista. Comunque. Ok, questo è il faro. Con il fascio di cavi. Prestigioso stipendio rubato da molti americani. No, non ci interessa. Qua, beh, non si può. Ah, no. Ok. Out of order. Qua non c'è nulla. Che poi... È un gioco che si discosta un po' da altri. Cioè qua si cammina, si esaminano oggetti. Ci sono magari colpi di scena. Mi ricordo che comunque in Layers of Fear si entrava, diciamo, nei dipinti. Nel senso si interagiva con quelli. Quindi... Era un gioco un po' particolare. Adesso. No, ma ho capito, ma siamo chiusi... È tutto chiuso qua. Avrò qualcosa da trovare qui, immagino. Questa è la mia valigia. Dovrei mettermi a scrivere. Infatti me l'hanno detto e mi metterò a scrivere. Che è successo? Che è successo? Ma... Non... Non ho capito. Però si è aperta questa porta. Cazzarola. Questa è una display, non saranno... I topi. Ci sono i topi. Però... Eccolo qua. E abbiamo aperto il quadro, ma... Niente. Andiamo via. Oh, c'è un foglietto. Sono un adulto, mamma. Sto al più o meno. Posso prendermi cura di me. Allora che tu ti concentri su te stessa. Non vedo l'ora di leggere quel libro. Ti voglio bene. Oddio. Ma è per me. Tra l'altro c'è qualcuno che picchietta sulle tubature. Ma scusami. Qua era chiuso. Boh. Torniamo indietro. Immagino di poter usare il telefono per qualche buon motivo, già che sono qui. Ok. Stai chiamando un marito. Gli sta dicendo che in pratica non ha avuto il tempo di ambientarsi. Cioè si stupisce il marito che non si è ambientata. E perché noi gli abbiamo detto che ci hanno già chiamato per chiedere se stavamo già lavorando. Stiamo dando un'occhiata in giro. È decisamente interessante. Tu come stai? Le medicine fanno effetto? Non è il marito, è il figlio. Il figlio. Mamma lo chiama quindi. Ok. Ciao figlio mio. Ok. Il figlio. Ok. Abbiamo capito. Va bene. Abbiamo chiamato. Adesso mettiamoci al lavoro. Mi piacciono molto questi temi un po' banali insomma, dire la verità, dove c'è lo scrittore, nel faro, mi ricordo un po' Alan Wake, tutti i giochi simili, ma è sempre un tema che mi piace molto. Vabbè, intanto mettiamoci a lavorare. Ah, se può interagire fatemi chiudere la porta, che si sa mai che arrivi qualcuno e mi disturbi. Andiamo avanti. So come devi sentirti. Perso, solo, senza speranza. Forse te lo meriti, ma persino per te c'è ancora un modo, un modo per riportarla indietro. L'unica cosa preziosa che hai sempre desiderato. Finiscilo. Ogni ritratto dipinto con passione è il ritratto dell'artista, non del modello Oscar Wilde. Va bene, questo tecnicamente dovrebbe essere invece l'inizio dell'altro gioco, del gioco base, senza questo preambolo. Non uso la ruola. Graficamente resta sempre comunque una gran grafica. Molto bella. Tropi. La preghiamo di svettere di importunare i nostri specialisti per il contenimento di specie nocive e di estenersi dall'inviarsi in ulteriori lettere inappropriate. Le comunico che mia madre è una donna rispettabile e non reagisce bene a tali insinuazioni. Tutti i dipendenti che hanno visionato la sua casa hanno riportato che non c'era assolutamente nessun segno di infestazione dei roditori. Gli ho sentiti io? Va bene. Ok, è l'ultimo avvertimento e poi ci faranno il paiolo. Bello per questo punto di vista, comunque mi ricorda anche Visage. Signore, non ho toccato il laboratorio come mi aveva chiesto, sebbene non riesco a immaginare il disordine che ci sia lì dentro. Ci sia dentro. Inoltre se ci tiene così tanto quella stanza forse dovrebbe fare più attenzione dove lascia le chiavi. La rimessa in suo ufficio. Quindi questa porta è chiusa, tecnicamente dobbiamo andare in ufficio. Qua si scende in cantina, ma mai scendere in cantina. Andiamo nello studio allora. Si apriano i cassetti. Si esaminano cose. C'è un collare. C'è la musica uguale di là. Ho esagerato. Si scusa, non faccio bene, non faccio per lei. Comunque permetto di lavorare sul mio carattere. Ok, lui ha una ipotetica moglie. Una protesi trastibiale di cui hanno sbagliato la lunghezza. Fuori c'è una tempesta. Che poi ogni cosa può lasciare trasparire qualcosa del carattere. Bourbon praticamente quasi vuoto. Uno che beve, fa casino, parla del carattere. Quindi... Vediamo. Un bigliettino. Sono stufa di comunicare con te attraverso questi messaggi. Viviamo nella stessa casa. Viene a parlare con me quando è finito. Prima di andare... Ok. Tempesta brutta. Fuori. Doviamo cercare lo studio. Che tecnicamente potrebbe anche essere... Là, perché c'è quella porta aperta. Anche se questo è lo studio. E quindi ci dice che abbiamo lasciato il telefono. E ci dovrebbe aver lasciato la chiave qua sopra. Abbiamo fatto casino con un amico. Ok. Dato che non è comunque un gioco che durerà 20-30 ore. Non voglio neanche spogliare troppo. Quindi prendiamo la chiave e vediamo cosa c'è di sotto. Anche se tecnicamente con la porta lì so chiusa mi fa venire voglia di andare a dare un'occhiata. Cioè... Che si apre da sola, tra l'altro. Questo è un amico. Questa è chiuso. Niente, abbiamo la chiave lì. Quindi scendiamo e andiamo ad aprire quella porta. che avevamo visto prima. Mamma mia. I pendoli mi fanno impazzire. Ok. La chiave era giusta come abbiamo poi visto. Questa è la stanza del dipinto. Ok, no. Questo è il laboratorio. Quindi andiamo a vedere questo dipinto e vediamo cosa... cosa succede. Perso, te lo meriti. Finiscilo. Mi ricordo che questi si aprivano man mano si andava avanti con l'avventura. Quindi dobbiamo finirlo. E qua c'era il modello. Ci vediamo direttamente nello specchio. Fantastico. Due anime che radevano di presentare niente. La loro ambizione era di creare qualcosa di così comune. Andava finito questo quadro, ma... Dovemmo finirlo adesso? No. Molto. Si è chiusa la porta. Ma non era così prima. Vedete che è cambiata la stanza. È cambiato tutto. È cambiato tutto. E il gioco ci porta così, con questa casa che cambia, a scoprire sempre più, in modo criptico, la storia del protagonista. E unendo, appunto, quello che era Layers of Fear 1, col 2, con i DLC, una storia aggiuntiva e una grafica ancora più bella. Un gioco in italiano, doppiato in inglese, ma tutto tradotto, sottotitolato. Si parla di dipinti, di scrittori, di pittori, insomma, di artisti, quindi di una storia... Io ho giocato solo il primo, vi dico la verità. La parte iniziale nel farlo non mi pare ci fosse. Porte da parire. Ci sarà la meccanica nuova. Adesso, da quello che ho visto, mi pare, non ci siamo arrivati, però dovrebbe esserci la lanterna per poter illuminare, cosa che non c'era nel vecchio. C'è anche questo passaggio di qua che non saprei. Poi lo definiscono un walking simulator alcune persone. E quello che voglio dire è, ci può anche stare, ma se l'esperienza mi porta a provare delle emozioni, a stupirmi, a spaventarmi, insomma, a vivere delle esperienze che mi fanno scoprire via via una storia, un'ambientazione, ben venga. Io non ho assolutamente nulla, e poi nulla, contro i walking simulator, perché ce ne sono di veramente ottimi. Ragazzi, questo era il Layers of Fear del 2023. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao! Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video.